Alessio è parte del nostro team dall'inizio, quindi chiuderà questa prima edizione online dell'Italia Community Manager Edition, tra l'altro ci saremo tutti insieme da capo sul finale. Che dire di Alessio? Allora, è un appassionato fino al midollo di community, attratto da tutto quello che incendiva le persone a lavorare e collaborare insieme. Lui ha creato, porta avanti la community della sua azienda, a supporto del business e connettendo insieme persone anche di aziende differenti. Ci parlerà la formula magica per accendere l'entusiasmo nella tua community. Di più, di più, di più, di più. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, così di più lo facciamo fare agli altri. Due, tre, via. Avete sentito? Di più? Siete tutti pronti, forti e carichi? Dai, 49 persone, arriviamo al 50 e partiamo. No, scherzi a parte. Quindi siamo tutti curiosi, anzi siamo tutti pronti a essere entusiasmati dal tuo entusiasmo, ok? In modo tale che tutti noi poi lo possiamo portare ancora di più, possiamo accendere fuochi, incendi nelle nostre community, ok? Grazie mille. Il palco è tuo. Grazie tante. A dopo. Buongiorno a tutti e grazie mille di essere qua. Parto subito, parto subitissimo, se volete sono qua a disposizione, qualsiasi domanda sono qui. Allora, se funziona... Funziona! Dovrebbe funzionare. Eccolo qua. Funziona, il bello della diretta. Allora, volevo parlare di Mattia. Mattia è la persona più entusiasta che io conosca. Lui è... Quando io penso all'entusiasmo, penso a lui. Mattia è un entusiasta fotonico delle macchinine. Mattia è mio figlio, ha due anni e mezzo. Lui viene da me e mi dice Babbo, le Hot Wheels. Perché riconosciuto, non sa leggere, però sotto ha riconosciuto che c'è un fuoco sotto che parte, che parla delle Hot Wheels. E mi dice Questa Babbo è velocissima, guarda come va. Io gli dico Anche questa è velocissima. La tua è lentissima. La mia è velocissima. Lui quando esce, lascia tutte le macchinine lì sulla porta d'entrata, perché quando torna, deve trovare le macchinine lì. È un entusiasmo all'ennesima potenza. Ecco, i bambini hanno questa cosa qua. Poi, quando diventiamo un po' più grandi, ci entusiasmiamo molto meno. Oppure ci entusiasmiamo su cose molto più specifiche. E quindi oggi parleremo di entusiasmo. Che cos'è l'entusiasmo? Cos'è questa centra entusiasmo con la community? E perché c'è questa connessione? Quindi ci faremo un po' di domande rispetto a questo. Prima di tutto, l'entusiasmo è un minione di due parole greche e ha un significato bellissimo. Vuol dire avere un Dio dentro di sé. Avere questo fuoco dentro che ti muove. L'entusiasmo significa avere quell'incontenibile forza ad agire, operare, dando tutto a se stessi. Tutto. Partecipazione totale. E già capite perché questa cosa ci comincia un pochino a interessare. Partecipazione totale e quindi perché ci interessa parlare di entusiasmo? Perché ci interessa parlare di questa forza che ci guida, che ci muove, che ci spinge? Prima di tutto perché niente di grande, un micro-view senza entusiasmo, come dice Emerson. Cioè, per creare qualcosa di grande ci vuole entusiasmo. Altrimenti non è possibile crearlo. I più, i risultati dell'entusiasmo sono coinvolgimento, passaparola, innovazione e fiducia. Sono quattro cose che noi interessano molto. L'entusiasta è una persona abbastanza particolare. Nelle volte in cui vi siete mai sentiti entusiasti in qualcosa? Ok, se vi siete sentiti entusiasti, l'entusiasta se ne frega di tempo che ci spende dietro la sua passione, le energie che ci spende, che sembrano infinite, apparire matto e beccarsi anche gli sfottò delle persone che lo pensano matto. e se ne frega di spendere di più, soprattutto se riguarda un oggetto. Anche perché l'entusiasmo è sempre direzionato verso qualcosa. Una causa, un oggetto, un brand, una direzione comunque. C'è sempre una direzione in cui viene rivolto. E quindi capite perché community, secondo me, è un... Allora, la community è un grande generatore di entusiasmo. Può essere un grande motore per generare entusiasmo, ma viceversa l'entusiasmo delle persone che partecipano alla community possono far diventare la tua community spaziale. Quindi c'è un legame fortissimo tra entusiasmo e community. E capite perché io sono diventato un entusiasta nello studiare l'entusiasmo. Un giro di parole veramente assurdo e anche brutto. Come si crea ancora l'entusiasmo? Quindi abbiamo detto che cos'è, come si crea, che è? Sembra un po', come dire, una formula magica, perché non si capisce molto bene dove viene. Se uno lo guarda così, è abbastanza... Sembra quasi una pozione, un abracadrab alla Mago Merlino. Anche perché è molto complicato crearlo. Alcune volte, magari, se avete creato la vostra community, vi siete mai chiesti, ma perché io sono l'unico entusiasta qua dentro? Perché sono l'unico casato? Gli altri non li muovo neanche di un dito. Oppure qualcuno mi dice, ma perché la tua community, le persone sono entusiaste, rispondono, sono coinvolte, e da me questa cosa non succede. Come la creo, sta cosa? Oppure magari ti dicono, ma perché nessuno si entusiasta al mio brand, alla mia azienda, al mio gruppo? Perché? Perché vanno tutti dietro lì e a noi non ci fila nessuno? Ecco, perché? Perché è così complicato creare entusiasmo? Io ho cercato di scoprirlo. Tempo fa ho chiesto ai miei ambassador, questi sono i miei ambassador, alcuni di essi, gli ho detto, dobbiamo far crescere la nostra community. Per poterlo fare crescere, ditemi voi che cosa vi ha spinto a essere così attivi, a essere così partecipanti, in modo che se noi capiamo cosa ha spinto voi, cosa vi ha entusiasmato, riusciamo anche a capire come entusiasmare loro. Allora è venuto a fare una discussione lunghissima, in cui loro hanno scritto papier di roba grossa così, molto coinvolto in questa cosa, in cui io ho cercato di prendere i tratti che hanno unito queste discussioni, e filtrare in base alla mia esperienza. Sono venute fuori una formula da cinque ingredienti. Chiaramente questa non è la formula definitiva per tutti, è quello che io ho imparato rispetto a quello che ho imparato finora, poi fatene quello che volete, potrebbe funzionare per voi, potrebbe non funzionare, spero che funzioni. Cinque ingredienti, appartenenza, aula studio, clima familiare, gine collettivo, piccolo gruppo di entusiasti. Questi sono i cinque ingredienti che vediamo insieme. Prima di tutto, create appartenenza. Cos'è l'appartenenza? Questo legame fortissimo che voi avete per il gruppo. Cioè, voi proprio vi sentite attaccati, legati, come c'è proprio Braveheart che vi tira dentro e vi spinge, che è una forza veramente fortissima nel creare questo gruppo e questo senso di appartenenza. Io quando penso appartenenza penso a Luca, che è uno dei miei, che dice, vedi, sfogge la sua maglia da Superman e dice, indossarla mi rende forte. Quando vedete queste cosine qui, significa che c'è appartenenza, significa che c'è questo legame. Anche perché l'appartenenza è un grande antidoto alla solitudine. Quando qualcuno mi dice, Ale, partecipare alla community mi fa sentire meno solo, io penso che il mio ruolo, il mio lavoro abbia un senso. Ha un senso diverso. Quindi creare appartenenza è un grande antidoto per la solitudine. Tre consigli pratici per creare appartenenza. Primo, raccontate storie di successo della vostra community. Quando la vostra community fa evolvere le persone, raccontatelo. Raccontatelo perché è importante per creare appartenenza. Un nostro amico, Luca, aveva preso un bando con la sua azienda e allora uno degli altri ha detto, mi piace pensare che ogni risultato ottenuto sia anche un po' merito della nostra community. Quindi pensare che il successo che ottiene singolo al merito della community ha una grande forza. Rendi nota le caratteristiche dell'identità. Ho capito che un community è un'identità. L'identità della mia community si chiamano eroi digitali. Io sono seduto sul palco l'anno scorso al nostro evento e il mio speech era 5 caratteristiche dell'eroe digitale. Quindi ho detto che cosa fa un eroe digitale e anche cosa non lo fa. In modo che io ho spiegato quali sono i comportamenti che noi ci aspettiamo e quali non li sono. Questo ti dà la possibilità di creare questo tipo di identità. Ricorda sempre chi siamo. Ricorda sempre chi sono i tuoi membri. Chiamali con un nome. Io scrivo sempre eroi digitali quando inizio una discussione, quando mando una newsletter, quando creo un articolo sul blog. Lo ricordo di continuo. Crea dei rituali, crea dei loghi, crea dei gadget. Ricordaglielo sempre. Questo crea appartenenza. Questo crea modo di sentirsi insieme. anche perché per l'appartenenza serve un lungo periodo. L'appartenenza si crea con piccoli gesti quotidiani che vengono ripetuti nel tempo. Non potete pensare che l'appartenenza venga creata così o venga imposta dall'alto. Quindi piccoli gesti che si sommano uno sull'altro. Secondo, crea un'aula studio. Quando io facevo l'università ero un pendolare, quindi non ho vissuto la città in pieno, ma mi piacevano un sacco le aule studio. Le aule studio è quando tu ti trovavi con le persone, parlavi con loro, ti confrontavi sulle idee, ti confrontavi sul modo di studiare, confrontavi le metodologie ed era bellissimo imparare così. Aula studio, non aula universitaria in cui c'è un docente che parla, ma un aula studio tra pari, con i tra pari si impara. Fate in modo che la vostra community sia un'aula studio, assuma un'aula studio. Come diceva il nostro caro Rich, grandissimo, non soltanto cosa vogliono imparare i vostri membri, ma che cosa vogliono diventare, che cosa vogliono apparire. I miei membri, ad esempio, vogliono diventare dei professionisti dell'ICT. Che cosa gli serve per diventare? Degli skill, delle conoscenze, delle relazioni, che cosa gli serve? Cerca di capire loro che cosa vogliono diventare e aiutati i servizi loro e aiutali. Consigli pratici, ispirali, crea contenuti in modo che loro possano imparare, crea degli articoli blog, dei video, delle news, quello che vuoi. Aiutali a creare dei contenuti della loro voglia, a loro volta, fagli creare degli out-to, delle guide, fagli scrivere delle esperienze in modo che gli altri possono imparare da loro. Secondo consiglio pratico, se c'è qualcuno che ha bisogno di qualcosa, vuole imparare qualcosa, fallo incontrare con una persona giusta, collegano con una persona giusta in modo che possa fargli da mentoring, da coaching, e lo aiuti. Terzo consiglio pratico, crea delle occasioni di contaminazione, crea dei momenti in cui le persone possono parlare tra di loro, possono conoscersi, possono imparare. Noi abbiamo un rituale, abbiamo una videoconferenza del lunedì che facciamo ogni settimana, ogni due settimane. Io chiamo qualcuno sul palco, uno o tre persone, dipende se facciamo delle tavole o l'ottomino, questo lo facciamo già da prima della pandemia e questa è una grande occasione per creare contaminazione, perché le persone vedono altri che parlano e quindi possono imparare da loro e hanno loro come riferimento se vogliono imparare quel tipo di documento. Fatelo anche voi, è molto interessante. Terza cosa, crea un clima familiare. Potete creare la cosa più bella di questo mondo, io non mi entusiasmo se non sono a mio agio. Io non mi entusiasmo se non mi sento accolto, io non mi entusiasmo se sento questa cosa per cui sono disposto a parlare. Il mio amico Luca una volta ha scritto nella nostra community ho subito trovato un ambiente dove si poteva parlare di qualsiasi cosa senza che si venisse additati come incompetenti. La prima volta che l'ho trovato. Fate in modo che le persone non si sentano negli incompetenti all'interno della vostra community. Questo è importante perché ha il clima familiare. Il clima familiare si connette fortemente ai nostri sentimenti più profondi. Cioè, quando voi entrate in una conferenza, in un evento, in un posto e non sentite il clima familiare, lo sentite subito, lo percepite. È una cosa che sentiamo a pelle questa cosa qua. È una cosa che la sentiamo subito. Ok? Quindi create questo clima familiare. Ricordatevi che non servono grandi cose. La gran parte delle persone vuole soltanto essere vista e avere qualcuno che si accorge di loro. Voi siete le persone che devono accorgersi delle nuove persone che arrivano, delle persone che entrano dentro. Voi dovete essere quella persona che porge lo sguardo e fa sentire le persone viste. Questo è creare un film clima familiare. Quindi accorgetevi delle persone. Primo consiglio pratico e il vostro ruolo. Secondo, e questa è una cosa bellissima che ci ha raccontato il nostro Douglas Hawking che è venuto l'anno scorso al nostro ICM, più si sfregano, più si sfregaranno. Sfregate le persone per creare il clima familiare. Fatele sfregare fra di loro come il fiammifero per l'accenderlo. Non ha senso metterle insieme una volta al mese. Le persone si devono sfregare continuamente, quotidianamente, altrimenti ha poco senso. Altra cosa, sempre una cosa bellissima di Douglas Hawking che gli rubo, le persone arrivano per i contenuti, cioè dovete fare bellissimi contenuti e ci sta. Ma lui vedeva nella sua esperienza di meetup che le persone dopo il terzo o il quarto incontro del meetup non tornavano più solo per i contenuti, tornavano per le relazioni, tornavano per le amicizie che ci sono create. Da quel momento in poi il connessione più grande era la relazione. Fate in modo che vengano create delle relazioni nei vostri community, delle relazioni vere tra le persone, delle amicizie. Questo è il modo per creare di un certo tipo un clima familiare. Ilario, un grandissimo ambassador, mi ha detto una volta dopo un evento non mi sono sentito come a casa, mi sono sentito a casa. fate sentire a casa le persone. Quarta cosa, quarto fattore, create un genio collettivo. Fate in modo che le menti delle persone, della mia idea, del mio genio sia sommato con tutte quelle degli altri. Come se fosse un puzzle, ok? Il mio puzzle, il mio pezzettino, io faccio spesso i puzzle con i miei figli, quel pezzettino in sé non ha alcun senso preso così, ma se lo metto insieme agli altri diventa una cosa bellissima alla fine. voi, come vittinizer, siete quelli che dovete fare incastrare i puzzle tra di loro. Questo evento è un risultato di un genio collettivo. Noi siamo in sette, uno sapeva mandare le news, uno sapeva fare quei social, uno sapeva creare delle leggende per gli speaker, uno sapeva fare le grafiche, uno sapeva contattare, sapeva come si crea un evento. Gli abbiamo messi tutti insieme, abbiamo fatto una cosa molto più figa, molto più bella di quello che avremmo potuto fare tutti noi, singolarmente. Il risultato di un genio collettivo. Abbassola mi dice è stato bello concentrare tutti i migliorimenti delle aziende dentro la Master Community. Consigli pratici, create discussioni con più punti di vista possibili, create situazioni in cui più persone con varie professionalità, vari modi di vederla le mettono insieme, ok? Quindi mettetelo insieme e fatelo vedere in sfacettature diverse in modo che non sia una cosa soltanto univoca. Costruite qualcosa insieme, un progetto, un prodotto, qualsiasi cosa, costruite, costruire le cose insieme è bello, crea genio collettivo. Io ho una serie di quality team all'interno della mia community quando creiamo un prodotto e generalmente in base di alpha test lo rilasciamo, lo diamo in mano a loro, loro ci portano feedback, ci portano suggerimenti, ci dicono come secondo loro devono funzionare anche in base all'esigenza del cliente, ci propongono cose nuove, quindi diventa una grande discussione infinita in cui noi costruiamo le cose con loro. Quindi è una cosa veramente interessante e sposta la discussione sotto un altro genere di livello. Una cosa molto interessante che io faccio spesso e molti dei miei membri fanno è ho bisogno di un consiglio per, create questo genere di cose, perché quando create un bisogno di un consiglio per, la gente si sbellica dentro a darti consigli, su qualsiasi tipo, prodotto a usare, tecnologia, modi di approcciare, processi, qualsiasi cosa ho un bisogno di un consiglio per vi far creare e alla fine praticamente diventa questa discussione lunghissima in cui non c'è una soluzione specifica, è la discussione in sé che è collettiva, come il documento che stiamo creando insieme. Quello è il risultato di un genio collettivo. Crea un piccolo gruppo di entusiasti, ultimo fattore, grande, Robin Williams che ha creato, un piccolo gruppo di entusiasti nel suo attimo fuggente. E ripetisco, piccolo, non è importante che sia grande, basta che sia piccolo, l'importante è che siano entusiasti. Questo è l'importante. Tempo fa ho scritto un articolo che ha votato un'idea bellissima di Richard, datemi 10 true believer e vi sposterò al mondo. Ne bastano 10 true believer, ne bastano 10 entusiasti. Non c'è bisogno di creare un comitato entusiasti, te ne bastano pochi. L'importante è che siano veramente entusiasti e in quella cosa lì tu ci muovi il mondo, sicuro. Anche perché se io vedo una persona entusiasta, penso che sia matta, primo. Non la capisco, ma perlomeno mi faccio le domande. È impossibile rimanere fermi rispetto all'entusiasmo di qualcuno. Quindi l'entusiasmo è altamente contagioso. Sei portato comunque almeno a chiederti qualcosa, a farti qualche domanda in più. Quindi, scegliete bene le persone. Sceglietele bene. Non sceglietele soltanto in base all'esperienza o alla professionalità o quello che sanno. Sceglietele in base a quanto ci crede, quanto tempo ci mettono lì sopra, quante energie, quanta passione ci mettono, quanto credono nei comportamenti e nell'identità che voi andate a creare. Quindi scegliete bene il gruppo delle persone in base a questi criteri. Tu devi essere il primo entusiasta. Non c'è niente da fare. Tu devi essere quello che ha la torcia in mano, che ha il fuoco e accende quello degli altri. Ci devi essere tu nel mezzo. Se non lo fai tu, alcune volte le persone mi dicono Ale, non ci capisco niente il community, ma di come le parli, va, cerco di buttarci un occhio, cerco di capire qualcosa perché ti vedo molto entusiasta su questo. Ecco quello dovete essere voi. Dovete essere l'entusiasta tra gli entusiasti. Ultimissima cosa, spingi lo sfregamento a mille ogni giorno nel piccolo gruppo. Cioè il piccolo gruppo ti concede di fare cose bellissime perché lì veramente lo sfregamento lo puoi fare veramente a massimi livelli. Quando nell'ultimo evento che abbiamo fatto uno degli ambassador, Fabio, mi ha detto creiamo un gruppo Telegram in modo che ci teniamo in contatto tra noi per l'organizzazione dell'evento. La cosa più bella che avessi mai fatto che chiaramente non ho ideato io a livello community perché il piccolo gruppo Telegram è nato avanti oltre all'evento. Lì ci si sente di continuo, ci si condivide qualsiasi cosa tecnica, personale, si dà il buongiorno al mattino, io qui li ho tenuti agganciati anche questi giorni rispetto a questa conferenza. È un bel modo per sfregare ogni giorno con le persone ed viene riversato completamente nella community più grande. Quindi il piccolo motore e il piccolo gruppo diventa da volano per la community più grande. Assolutamente indispensabile. quindi venendo alla fine come vi ho detto i cinque fattori i cinque ingredienti nella nostra superpozione magica per l'entusiasmo appartenenza aula studio clima familiare genio collettivo piccolo gruppo di entusiasti. La cosa che vi chiedo in questo momento ed è assolutamente se andate via da qua una cosa vi chiedo soltanto mai come in questo momento l'entusiasmo e la community è il miglior antidoto per il distanziamento sociale viviamo una situazione in cui le persone sono lontane il vostro ruolo come community manager è creare connessioni creare relazioni avvicinare le persone in un momento di distanziamento è la cosa migliore che potete fare dovete farla ora è il momento giusto per poterla fare grazie e buon lavoro a tutti eccoci eccoci facciamo partire dai non so se si sente parte pure parte pure il coro da stadio bellissimo ci sta Michela ci sta Michela non l'abbiamo più si è addormentata si è addormentata non volevo rubarti lo schermo eri tu che dovevi fare gestire il Q&A quindi qui sentite un'autombulanza scusatemi molto bene allora senti qua senti qua è venuto a prendere che è venuto durante il talk senti qua adesso qui ci sono un bel po' di domande commenti riflessioni oltre le mie su cui non mi soffermo perché mi è molto interessato quindi poi le facciamo assolutamente in privato allora la prima domanda dove possiamo trovare altre info tutto il materiale che so io ti conosco so che produci molto quindi se lo vuoi dire pure ai nostri amici secondo me lo troveranno utile ormai ci sono roti le scatole perché l'hanno visto in ogni slide in fondo alessafattorini.it c'è tutto quello che scrivo in Italia cerco di buttare giù pensieri raffazzonati su le cose che penso sulla community e tra l'altro ho posto anche sulla nostra community di Facebook di community manager quindi cerco di mettere anche lì tutti i contenuti quindi lì ci potete trovare altre cose di cui blattero ogni tanto esatto quindi alessafattorini.it mentre poi i nostri gruppi ve li ricordiamo alla fine con tutti gli altri allora vado con la domanda di Stella ma ci sono numeri limite per creare il virgolette clima familiare? dipende da quanto è grande la tua community in generale il limite limite minimo ti bastano due o tre persone ti bastano due o tre persone secondo me limite massimo secondo me oltre 15-20 fai un po' fatica a tenere il piccolo gruppo è chiaro che se tu hai un community immensa ti serve una forza abbastanza grande al di là del 20-25 è un po' più faticoso poi lo vedete anche nelle vostre aziende quando l'azienda cresce è difficile tenere il piccolo gruppo quindi lo otterrei su questi numeri qua allora poi abbiamo Marco Arena che saluto che ci ricorda se vuoi andare veloce corri da solo se vuoi andare lontano vai insieme a qualcuno quindi mi piaceva troppo in realtà abbiamo poi una domanda di Marvi che ci dice per generare entusiasmo e avere ambassador bisogna però dargli un valore aggiunto che sia percepito come reward giusto domani è una domanda non le taglio male è una domanda è una domanda no allora reward sì è una parte in cui non mi sono soffermato questa cosa qua altrimenti facevo 40.000 ingredienti ma è chiaro che gli devi dare qualcosa a loro allora devi distinguere tra intrinsechi e estrinsechi cioè intrinsechi significa già il fatto di appartenere in un gruppo in cui loro si conoscono già un riconoscimento interessante perché hanno dei loro pari si possono confrontare possono sapere chi chiedere vengono riconosciuti dall'intera community quindi quello è già un riconoscimento interessante tu come io ad esempio a Natale mando sempre un sacco di regali quindi una volta gli mando la felpa una volta gli mando lo zainetto una volta gli mando la t-shirt ci sono anche quelle servono e quindi infatti hai consigli su come ricompensare hai consigli su come ricompensare quindi vai pure quindi magliette t-shirt io faccio cose di questo genere qua e tra l'altro non metto mai in vendita i riconoscimenti generalmente in modo che il riconoscimento deve essere qualcosa che tu ti guadagni sul campo non è un qualcosa che puoi comprare in quel modo lì il riconoscimento acquisisce un sacco di valore perché poi sai che lo posso comprare per 10 euro secondo me ha meno senso e i reward a zero budget quindi premi riconoscimenti diciamo non materiali sempre marvi il zero budget mandagli una lettera scritta a mano zero budget molto figa 100% risultato vabbè il costo del franco bollo però dicevi questo zero budget avrai 10 euro un costo sarà cool bella la lettera comunque mi piace anche a lettera di natale o qualcosa del genere è una cosa molto antica molto antica e inaspettata l'ho fatto un sacco di volte personalizzata ci spendi un po' di tempo ti prendi a quante persone hai però rapporto tempo risultato altissimo guarda a zero budget non esiste nulla dove spendi zero c'è perso tempo che diciamo è bene o meno la stessa cosa ti è capitato mai di questo è Manuel che ci chiede ti è mai capitato di creare troppo entusiasmo tanto da essere al limite del controllo se sì come l'hai gestito non andando contro i tuoi principi allora tanto entusiasmo è successo che la chat che vi dicevo prima è oltre la mia gestione tra l'altro non sono più di una di quelle cose lì quindi non puoi stare dietro a tutto in verità quindi vedi questo entusiasmo che spara mille intanto loro ti menzionano sì quando vedo questo troppo entusiasmo devo cercare di autolimitarmi io perché se no sto troppo dietro questa cosa qua e ci perdo il tempo cioè ci sto dietro anche la notte perché lo scrivono anche di notte quindi devo autolimitarmi quindi generalmente dedico del tempo degli slot della mia giornata a quelle cose lì e so che comunque le devo quindi devo autolimitarmi io autolimitare loro no cioè nel senso che a meno che veramente cioè devi chiaramente l'entusiasmo lo devi mandare in una direzione perché l'entusiasmo in sé non è buono l'entusiasmo verso i comportamenti che tu ritieni legittimi all'interno della tua community quello è buono basta che l'entusiasmo non vada fuori un po' dagli argi Alessio ascolta qui 1600 membri 1600 lettere a mano no 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 quello devi prendere un gruppo di amanuensi prima lo leggi quindi già può avere un costo no prendi i tuoi quelli un pochino più attivi di ambassador super user come li vuoi chiamare prendi loro educa 10 per educarne 1000 quella è l'idea brutta sta frase bruttissima però in generale come ho detto è importante entusiasmare il piccolo gruppo quello grande viene di conseguenza quindi focalizzati su di loro che è importante curare loro personalmente non puoi scalare le relazioni all'infinito è impossibile le relazioni non scalano le relazioni se sono di valore sono con poche persone e qui abbiamo Cristian che tra l'altro proprio con Alessio abbiamo conosciuto ieri nell'ultima parte finale di networking quindi dei gruppi che creeremo pure oggi quindi ho fatto pure un po' di autopromozione a questa nostra iniziativa che ci chiede ora che siamo in lockdown e tanti lavorano in smart working che ruolo ha la community nel processo del lavoro? allora essenzialmente allora le persone che partecipano alla mia community lavorano con la mia community quindi praticamente loro è anche uno strumento per lavorare per loro è uno strumento per lavorare anche per la mia azienda perché è comunque uno strumento di lavoro quando è partito il tutto io ho visto un picco della stante la mia community è un mixto di online e offline le mie community sono un mixto di online e offline molto più spuntate sull'online e chiaramente questo ha voluto dire spingere ancora di più e curare ancora di più le relazioni proprio perché le persone sono isolate e quindi anche se vedi un picco di partecipazione devi comunque cercare di sentirle tutte collegate tutte collegate tra di loro è proprio in questo momento che rimane un po' più importante non so se ho risposto alla sua domanda se l'ho interpretata bene probabilmente no però magari dopo ne perdiamo eventualmente in questi minuti anche perché poi eventualmente avete tempo di tampinare Alessio sulla piattaforma che resterà fino alle 3 di stanotte no scherzo vado con qualche altro commento lo leggo perché stanno crescendo tantissimi come ingaggi gli ambassador vogliono consigli pratici Alessio proprio che ne so che fai con questi con i tuoi ambassador dovrebbe fare uno speech a parte su questa cosa qua ingaggi gli ambassador tre consigli al volo uno parti dal piccolo videoconferenza evento piccolo con loro guardi con loro cerchi di capire loro di cosa hanno bisogno cerchi di capire che valore tu gli puoi dare cerchi di capire da loro che cosa si aspettano dalla community quindi all'inizio sono partito così quindi cerchi di capire da loro lo costruisci insieme a loro un po' la community quindi li devi sentire coinvolti all'interno del grosso del grosso costruzione che tu stai facendo in modo che loro si sentano all'interno di questa di questa di questa cattedrale che stai facendo con loro e poi per inserire gli altri poi li inserisci via via ad esempio da noi vengono gli altri ambassador vengono scelti dal gruppo degli ambassador su base di voto interno e su base di merito portato alla community secondo i valori che vi ho detto prima cioè quanto tempo quanta energia quanto ci credi che comportamenti hai quanto cerchi di creare valore tutte queste queste cose qua noi poi io faccio delle valutazioni propongo dei nomi loro le valutano insieme a me le votiamo e li tiriamo dentro allora io qua trasformo un commento di Alessio in una in realtà in una domanda no? dice l'entusiasmo va canalizzato come dico il buon community manager è una sorta di regista occulto il suo prodotto non deve essere parte partecipito percepito scusate come un'imposizione ma arrivare dall'alto tu in realtà che pensi? cioè come come bilanci le due cose da una parte l'azione che ci deve essere è quella di di estenderla poi in realtà tutta la community in modo tale che sia partecipazione di tutti c'è una frase bellissima del libro Ingegno Collettivo in cui c'è un manager un CEO dell'azienda che dice il mio ruolo non è non è salire sul palco non è il mio ruolo è allestire il palco non è salirci sopra quindi il mio ruolo è fare in modo che tutti i pezzettini si attaccino bene nel miglior modo possibile ne ha parlato tra l'altro Marco anche l'hierro l'ho sentito noi siamo molto portati a salirci sopra al palco molto spesso però salire sopra il palco significa far ombra alle persone che ci sono dietro quindi devi trovare il buon equilibrio tra allestire il palco cercare di portarci le persone sopra ma cercare di che non ci sia il deserto quindi in qualche modo tu la community la devi tirare quindi devi far sentire la tua presenza devi ispirarla devi fare il motore però devi tirarti indietro indietro meno possibile una grossa leva è il gruppo degli ambassador più quelle persone lì crescono più loro saranno le persone che allestano il palco più loro saranno le persone che salgono sul palco e tu sei sempre quello che fa il lavoro sulle retrovie c'è una community che io gestisco da cinque anni in cui io attualmente faccio veramente muovo veramente pochissimo e va avanti da sola e praticamente non faccio quasi più niente in quella in questa situazione lì quindi devi trovare quel equilibrio giusto per fare il mondo il sogno di tutti il sogno di tutti devi trovare gente brava che ti dia una mano e che ti aiuti e ci crea un sacco grande guarda qui le domande impazzano però io direi siccome dobbiamo spostarci proprio per le ultime informazioni finali dall'altra parte però resteremo attivi noi del team spero tutti voi partecipanti sulla piattaforma quindi potete inondare Alessio sia privatamente oppure in una delle due sessioni aperte che creeremo dopo entro in una delle due sessioni e poi possiamo andare avanti lì dai grazie a tutti grazie a tutti